Un'oste che ha sparato e ucciso un ladro che si è introfolato nel suo locale è stato assolto perché è stata considerata legittima difesa. Sono estremamente contento intanto perché è una sentenza della magistratura e quindi una sentenza oggettiva che è stata valutata. E poi vuol dire che si rientrava proprio nel caso della legittima difesa e che la reazione di questo signore, che difendeva non solo i propri beni ma soprattutto la propria vita, la propria famiglia, è stata considerata sia necessaria che proporzionale. E quindi si inquadra esattamente in quello che è la natura specifica della legittima difesa. Ma lei pensa che la legittima difesa debba essere stesa anche ad altri casi, quindi non solo di aggressione all'interno del domicilio? Le stesse tutele che vengono promosse all'interno di una sede abitativa potrebbero essere prese in considerazione anche in altri luoghi geografici per le strade o comunque in luoghi pubblici perché comunque l'aggredito ha la necessità e il dovere e soprattutto la necessità di difendersi per evitare un danno forse irreparabile a suo carico. Pensa che il codice menale debba essere ulteriormente riformato e migliorato in questo senso? Ci possono essere dei margini di miglioramento e uno, quello che io cito nel libro, è proprio quello di estendere le tutele dell'abitazione anche ad altri luoghi. Allora